Una condanna a tre anni di carcere per Michael Cohen, ex avvocato di Donald Trump, tra le accuse una serie di pagamenti illegali a donne che durante la campagna elettorale avrebbero avuto rapporti con Trump. Un silenzio comprato per scongiurare un possibile scandalo sessuale che avrebbe minacciato la sua corsa alla Casa Bianca. L'ex legale del tycoon avrebbe anche mentito al congresso riguardo al progetto di costruire una Trump Tower a Mosca. Cohen si è dichiarato colpevole confessando di averlo fatto per lealtà nei confronti del presidente, mentre Trump continua a negare le accuse. Grazie.